Buon pomeriggio, la prima corsa del convegno di Arno è il premio Bertuz, un miglio per i quattro anni interpretati dai gentlemen. Sette i cavalli al via con il numero uno Renoir Rab Stefano Baldi, il due re d'amore Ciro Ciccarelli, il tre Runaway Griff Jessica Bevilacqua, il quattro rispetto P Antonio Simioli, il cinque Rarity Giancarlo Calabresi, il sei Romanov B Fabrizio Martinelli, il sette Remember Me SM con Matteo Zaccherini che è anche il favorito della corsa. Mancano ormai cento metri allo stacco della macchina, parte con cautela il cinque di Rarity, Cerca di emergere per linea interna il numero due di Redd'amore, al cui interno prova a resistere Renoir Rab, quindi all'esterno Romanov B, ancora Runaway Griff. Il lancio di Redd'amore in 13,3 per conquistare il comando, avendo all'esterno Romanov B, lungo la corda c'è Renoir Rab, Runaway Griff in terza posizione con all'esterno rispetto P, quindi in coda ci sono Rarity in coppia con Remember Me SM. Primo quarto volato in 28,7 da Redd'amore sotto il pungolo di Romanov B che insiste a contatto Renoir Rab. Si va molto forte, i 600 iniziali in 43,1 sul mio cronometro con Redd'amore che ha respinto Romanov B, Renoir Rab spettatore interessato, Runaway Griff che si è spostata dalla corda nella scia di Romanov B, ha guadagnato posizione all'interno Rarity che ha in fuori rispetto P che lascia in coda Remember Me SM che si mantiene però in seconda corsia, cospicuo rallentamento del leader Redd'amore sulla seconda curva perché Romanov B si è adeguata all'esterno, ma comunque il primo chilometro va via in 1,14,5 con Redd'amore leader su Romanov B all'esterno, Renoir Rab, Runaway Griff all'esterno, Rarity rispetto P che si affaccia in terza ruota, addirittura a centropista si lancia Remember Me SM, il paletto dei 1200 metri in 1,29 secco per Redd'amore ancora all'esterno Romanov B lungo la corda Renoir Rab senza spazio, a centropista provano a farsi avanti, rispetto P e Remember Me SM alla corda Redd'amore nella sua scia di Renoir Rab senza spazio, Romanov B tenace all'esterno, Rarity poi ancora rispetto P in vantaggio Redd'amore al suo interno, prova Renoir Rab, poi ancora Romanov B e gli altri, nel finale si difende Redd'amore dall'attacco interno di Renoir Rab sul palo, Redd'amore che si salva da Renoir Rab, mentre per il terzo e il quarto posto sembrerebbero molto vicini, Rarity e Remember Me SM a centropista. sul mio cronometro addirittura 1,59 secco, 1,14,4 da un capo all'altro Redd'amore con Ciro Ciccarelli dopo aver respinto il consistente attacco di Romanov B nei primi 600 metri, in retta cala Romanov B comprensibilmente lungo la corda spazio per Renoir Rab, ma Redd'amore controlla all'esterno, provano ad arrivare Rarity numero 5 e Remember Me SM vince Redd'amore su Renoir Rab alla corda, poi per il terzo forse Remember Me SM all'esterno, molto vicino a Rarity comunque sicuramente fotografia per il terzo posto, retta d'arrivo che viene riproposta anche dalla frontale con il leader che allarga ma non vistosamente è proprio millimetrico il varco per Renoir Rab Grazie a tutti